Ciao a tutti ragazzi, io sono iPirox e bentornati in un mio nuovissimo video sugli SCP Oggi non ho messo tra l'altro l'intro se qualcuno di voi l'avrà notato Perché ho visto il video scorso con l'applicazione che uso per fare i video Ve lo metto in verticale quindi non è bello Ma comunque io direi di iniziare di nuovo questo gioco sugli SCP Bastardo Perché è un po' cattivo, ho provato a giocarci un po' anche oggi, non capisco Nel video scorso probabilmente è passato troppo tempo e la statue è andata in tutti gli altri luoghi strani Ma comunque adesso so già più cose quindi iniziamo subito Allora qui sì, siamo di nuovo nella classe D e tutto qua Allora prendiamo questo, ok che ce l'abbiamo Adesso Mi farebbe piacere se i tizi arrivano Dai Forza su, apri te Sì sì tranquillo ci siamo però andiamo per favore che già sono anziano Ma poi scusate io dovevo essere preso, non un'altra persona, io proprio Quando succede questo disastro non potevo stare chiuso tra quello nelle mie camere, no Invece no, dovete prendere me perché mi amate, quindi Quindi Sto inizio Sto inizio Quattro Sto inizio Immediately So, qualcuno vi se ne commenti che letto che per te lefolo che sia gioco Ma non è vero, semplicemente i comandi sono un po' diversi, ma la tipologia di Gio, capito? Ho capito? Ho capito? You're kidding me Se posso aprire le porte, che vero, ma ci sono altri vercerati A voi non mi dà soltanto Sì, no offensi, ma ho già perduto l'interesse in quello che stai parlando Però muoviamoci, per favore che questa prima parte è sempre un po' noiosa Allora Just get in there and follow all the instructions And uh, you'll probably be fine Or maybe you'll be In the same way, I don't really care Si va, si va Insieme ai miei due migliori amici Ciao amici Sapete che non vedete quindi qualsiasi cosa che vedete Spero che si Allora E lì c'è la statua Adesso io appena posso esco perchè Già sono troppo ansiato No No Allora No 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 What the hell is happening? Lasciami stare Lasciami stare Oh Scappiamo scappiamo No No Non ci vede tanto niente No raga non si vede niente Dobbiamo far veloci Ma perchè io mi odio di molto niente Oh Ciao amica Ok eh Dove sei? Aspettate che non mi fido Ok andiamo adesso Lo chiudiamo Allora Non ci vedo niente Ora No Andiamo di qua sperando che Di qua che dobbiamo andare Dai sbatti questi palpelli dovre Adesso andiamo No Mi scherzavo Quanto pare di qua non si può andare Si vede a sentire delle urla Aspettiamo di battere le palpebre perchè non mi fido Ok Ok andiamo di qua Di qua quanto pare sicuro Allora Io spero di non morirci perchè comunque Ogni volta devo rifare la stessa roba Adesso si può chiudiamo la porta Ah abbiamo già trovato un documento SCP No Come SCP Che di sta porta Perché abbiamo un documento? No ragazzi no No Deve entrare qua? Deve entrare qua? Non mi sembra non ci vedo niente No ma deve entrare qua? Entriamo allora cioè Che vi devo dire? Che vi devo dire? Cos'è? Non mi posso più muovere? Che succede? No cosa ho fatto? No No cosa ho fatto? Ma cosa non ho capito? I killed them I killed them Ma No Allora Allora se mi arriva un jumpscare Io Esplodo No No ragazzi Basta non posso più fare niente Che è successo? No sono morto Da chi sono stato ucciso? SCP 1074 1074 In una testa rumero No No ragazzi No ci sono morto tristemente Ma no Beh posso dire Siamo morti anche oggi Ma abbiamo scoperto un segreto Diciamo cioè Quindi A quanto pare Il carcerato qua ha ucciso qualcuno Che SCP strano questo? Abbiamo capito che l'SCP 1074 Non dobbiamo andarci Perché ci fissiamo in un quadro triste Che ci fa venire la depressione Benissimo Io direi di non continuare Che Dato che questa SCP serie La voglio far durare per un po' Cerchiamo di non scoprire tutto subito Ma facciamo un pezzettino ogni volta In modo che capiamo Lo so che è già uscito da molti anni questo gioco Ma comunque Secondo me è bello comunque giocarci Beh Udiide non è una bella schermata per l'altro E' meglio Facebook Molto meglio Facebook E' Perfetto Perfetto Forza su Dai Eccoti Ok Spero che per oggi sia tutto ragazzi E' Sì Spero che oggi sia tutto E' bellissimo il mio parlare Spero che questo video vi sia piaciuto E direi che per oggi è tutto E ci vediamo la prossima volta Con un altro video Ciao